Il Floor Boy Z12S, prodotto in Svizzera, viene consegnato completamente assemblato, compreso il contenitore del serbatoio. Copre molteplici ambiti di utilizzo. Per la cura e l'olio dei pavimenti in legno, utilizziamo i Super Pads. Questi variano in base al colore e al grado di durezza. Per cominciare, iniziamo con la pulizia intensiva. Si prega di riempire il serbatoio con la soluzione detergente. La durezza del pad dovrebbe essere adattata alla sensibilità e allo sporco del pavimento. Qui utilizziamo un pad verde. Lasciare agire la soluzione per il tempo consigliato dal produttore. Quindi rimuovere la soluzione sporca con uno straccio. Il risultato è sicuramente apprezzabile. Successivamente, lasciate asciugare completamente il pavimento. Anche l'oliatura è molto semplice. Non versate olio nel serbatoio, altrimenti i tubi potrebbero incollarsi. Spargere l'olio per la cura uniformemente in piccole quantità e quindi massaggiarlo con il Flor Boy. Qui utilizziamo un pad bianco. Rimuovere l'olio in eccesso con un panno assorbente per olio o un panno privo di lanugine dopo un tempo di contatto adeguato. Non deve rimanere olio sulla superficie. Stracci, panni, eccetera. Impregnati di olio devono essere immersi in acqua e lasciati asciugare all'aria. Ripetere i passaggi. Una volta che il pavimento è completamente asciutto, il nuovo pavimento in legno può essere nuovamente goduto senza restrizioni. Buon divertimento nella cura del pavimento con il Flor Boy Z12S. Se hai altre domande, sentiti libero di scriverle nei commenti.